benvenuti o bentornati a the future of questo è lo spazio dei curiosi di futuro io sono andrea ferrante e vi racconto le tecnologie i colpi di genio e le discontinuità che potrebbero diventare grandi e plasmare il modo in cui vivremo domani la prima notizia della settimana arriva dal mondo dei videogames e ci consente di cominciare la puntata con leggerezza epic games la società dietro a fortnite tanto per intendersi ha rilasciato una demo del suo nuovo motore grafico in uscita nel 2021 che si chiama unreal engine 5 ora capisco che parlare di grafica in un podcast che per sua natura è uno strumento audio può rendere poco l'idea ma unreal 5 è qualcosa di davvero spettacolare la demo lumen in the land of the night funziona in tempo reale su playstation 5 e ha un aspetto davvero incredibile epic games ha dichiarato che potrebbe raggiungere un fotorealismo alla pari con la computer grafica o la vita reale quali tecnologie consentono risultati così spettacolari prima di tutto la geometria dei micropoligoni virtualizzata con nenite è un tool che dà ai programmatori la possibilità di creare letteralmente arte composta da centinaia di milioni o miliardi di poligoni che possono essere importati direttamente in unreal engine in secondo luogo lumen che è il secondo pezzo di tecnologia offre agli sviluppatori una soluzione di illuminazione globale completamente dinamica che reagisce immediatamente ai cambiamenti della scena e della luce ciò significa che i singoli raggi di luce possono rimbalzare molte volte sulle superfici creando riflessi speculari indiretti in ambienti enormi e dettagliati a scale che vanno dai chilometri ai millimetri vi lascio ovviamente il link del video dove potete rifarvi gli occhi per me che giocavo a dragon's lyre nel 1986 sul commodore 64 vi posso dire davvero il futuro è già qui nel 2021 e big games migrerà anche fortnite su questo motore e sono sicuro che ne vedremo delle belle in tutti i sensi per la seconda notizia della settimana occhi al cielo giovedì scorso un cesna 208 completamente elettrico al gran completo con nove passeggeri a bordo ha compiuto un volo di test per 30 minuti ad oggi è il più grande aereo al mondo completamente elettrico ad aver volato così a lungo il produttore che si chiama magni x è entrato sul mercato nel 2009 per sconvolgere l'industria del trasporto aereo affidandosi a un team di professionisti che comprende ex dipendenti di aziende importanti come airbus boeing google spacex e tesla la dimostrazione di ieri segue un altro importante volo dello scorso dicembre dove un aereo magni x più piccolo in collaborazione con la compagnia aerea regionale harbor air ha volato per 15 minuti non era un caso nel 2019 infatti magnix e harbor hanno annunciato per la prima volta i loro piani per diventare partner e rendere harbor la prima compagnia aerea al mondo 100 per cento elettrica per i cesna retrofitti ho sbagliato per i cesna retrofittati perché è questo che sta pensando harbor air per la sua flotta il raggio di azione è di circa 160 chilometri per i veicoli progettati direttamente elettrici nativamente l'autonomia potrebbe essere anche fino a cinque volte superiore il ceo di magnix ha comunque specificato che il costo per far funzionare la flotta elettrica retrofittata di harbor air comunque potrebbe essere inferiore anche del 50 per rispetto ai tradizionali aerei a carburante sarà il futuro diciamo che mezz'ora di volo oggi non è un tempo incredibile esistono già droni elettrici che percorrono le medesime distanze sono stati progettati elettrici nativamente e chiaramente sono molto meno complessi di un aeroplano almeno dal punto di vista meccanico senza contare che in molti casi sono anche pensati per decollare in verticale e non hanno necessariamente bisogno di una pista in ogni caso è una bella storia da seguire la terza notizia della settimana riguarda la battaglia per i diritti civili che negli usa si sta combattendo contro l'uso scorretto del riconoscimento facciale è evidente che in america in questo preciso momento hanno ben altri problemi sui diritti civili e delle minoranze ma io ho scelto di occuparmi di tecnologia e quindi vi parlo di clear view ai la american civil liberties union sta facendo causa alla controversa società di riconoscimento facciale clear view ai per violazione dell'illinois biometric information privacy act sostenendo che la società ha raccolto e memorizzato illegalmente dati su cittadini dell'illinois a loro insaputa e senza il loro consenso ed ha poi venduto l'accesso alla sua tecnologia alle forze dell'ordine e da società private quindi attenzione non stiamo dicendo che il riconoscimento facciale è brutto e cattivo anzi stiamo solo spingendo affinché sia utilizzato all'interno di leggi precise e con la volontà del pubblico se così non fosse il fatto che funziona benissimo non sarebbe un pregio bensì un grave rischio il motivo per cui lo strumento dell'azienda americana è così efficace è che clear view ha preso le fotografie e altri dati da siti di social media contro le regole di quelle piattaforme ed ha creato un database di oltre 3 miliardi di immagini che vengono poi confrontate con una foto caricata utilizzando sofisticati algoritmi addestrati dal machine learning probabilmente ci sono anche la mia faccia e la tua che mi stai ascoltando anche se non siamo dell'illinois già questo sarebbe grave se poi questa informazione viene monetizzata vendendola a forze dell'ordine pubbliche che le usano senza disposizione di legge in materia ed agenzie private direi che è davvero troppo aggiungendo benzina al fuoco clear view vende l'accesso a un'applicazione per smartphone che consente ai suoi clienti ed anche a quelli che utilizzano l'applicazione in prova di caricare una foto di una persona sconosciuta e ricevere istantaneamente una serie di foto corrispondenti mi auguro che vengano bloccati il prima possibile la quarta notizia riguarda il progetto vesta qualcosa che vi stupirà per la sua potenza visionaria dirompente l'idea è quella di accelerare un processo naturale che normalmente avviene molto lentamente nel corso del tempo geologico quando la pioggia cade sulle rocce vulcaniche queste rocce si dissolvono un po e si scatena una reazione chimica che cattura l'anedride carbonica dall'aria e la spinge dentro l'acqua sotto forma di una molecola nota a tutti che si chiama bicarbonato il progetto prevede di macinare l'olivina che è un minerale verde poco costoso e poi spargerla sulle spiagge dove le onde possono innescare la stessa reazione chimica che estrae la co2 dall'aria nell'acqua gli organismi marini usano il bicarbonato per costruire conchiglie e alla fine al massimo quello in eccesso finirà come calcare sul fondo dell'oceano nonostante vi siano sia scettici che contrari all'idea di rendere verdi le nostre spiagge per tentare questo geo hack il progetto partirà con un'attività di test su un'isola caraibica semi deserta una spiaggia vicina ad una che invece non verrà trattata in modo da poter fare tutte le comparazioni del caso in due luoghi vicini e simili io personalmente preferirei che i problemi climatici le affrontassimo alla radice ma vista la lentezza decisionale e l'incapacità del potere politico plaudo a queste iniziative tra l'altro il progetto è senza scopo di lucro e da basso costo l'olivina può essere estratta e portata sulle spiagge al costo di 10 dollari per tonnellata di carbonio catturato sarebbe di gran lunga il metodo permanente più economico per la cattura del carbonio inoltre se dovesse funzionare i promotori rilasceranno pubblicamente le istruzioni per replicarlo ovunque desiderato insomma se domani metterete i piedi su una spiaggia verde ora sapete cosa significa l'ultima notizia della settimana arriva dalla svizzera e getta una luce interamente nuova sul tema tanto di moda dello smart working che come avrete capito è molto working ma sicuramente poco smart a volte appena remote e da volte un mero organizziamoci da casa più o meno come se fossimo in ufficio il giornale in lingua tedesca tagess anzeiger mi perdonerete la pronuncia riferisce che il massimo organo giurisdizionale svizzero ha stabilito che i datori di lavoro sono tenuti a contribuire al pagamento della affitto dei dipendenti se ci si aspetta che lavorino da casa secondo l'articolo la decisione del tribunale federale riguarda una società di revisione contabile che aveva lasciato lavorare un dipendente da casa la società ha sostenuto di non aver raggiunto un accordo con il dipendente in anticipo e quindi di non essere obbligata a coprire parte del suo affitto il tribunale ha respinto questa argomentazione ed ha aggiunto che il dipendente ha il diritto di chiedere un risarcimento per l'affitto anche con effetto retroattivo dopo aver lasciato l'azienda l'attuale pandemia ha chiaramente spinto molte persone a lavorare da casa e si prevede che il fenomeno sarà in gran parte agevolato nel futuro prossimo tanto da diventare un'abitudine praticamente permanente almeno a certe condizioni i massimi esperti si sono già spinti ad immaginare cosa questo significhi dal punto di vista psicologico per le persone e quanto possa influenzare il business del real estate la mobilità l'uso del tempo e chi più ne ha più ne metta mi sembra giusto ricordare che in molte parti del mondo è illegale che il datore di lavoro passi dei costi al dipendente per svolgere attività nell'interesse del datore di lavoro e quindi dall'affitto all'uso della corrente o della telefonia o persino ad una quota del mutuo l'argomento potrebbe diventare caldissimo salvo ovviamente accordi tra le parti se le grandi corporate volevano sfruttare l'occasione per risparmiare sui costi dell'affitto mi auguro che la cosa si possa rivedere in un'ottica più bilanciata la start up della settimana la start up della settimana è l'olandese otrium che ha chiuso un round b da 24 milioni di euro lo so che gli olandesi non ci sono particolarmente simpatici in questo momento dopo essere diventati il paradiso fiscale dell'unione europea attirando la ricchezza di chi vuole restare in incognito senza pagare le tasse fanno poi il paese rigoroso sulla condivisione delle risorse comunitarie durante la crisi però questa start up aiuta su un tema particolarmente importante lo smaltimento degli stock di invenduto nel mondo fashion rivolgendosi principalmente ai piccoli brand indipendenti l'obiettivo è quello di prolungare il ciclo di vita della moda evitando che grandi quantità di abiti perfetti ma invenduti restino a prendere polvere nei magazzini gli amanti della moda possono iscriversi a otrium e fare qualche affare mentre i marchi di moda non solo hanno la possibilità di vendere la loro collezione precedente ma anche di raccogliere informazioni sul loro pubblico un pubblico che ad oggi consta già di oltre un milione di iscritti considerato che si stima che il mondo della moda abbia un invenduto stagionale globale di circa 150 miliardi di dollari in questo momento a causa della pandemia otrium è pur sempre solo una goccia nel mare ma sicuramente sta navigando nel mare giusto la puntata di the future of è finita ma non andate via ancora un istante prima di tutto grazie di essere stati con me durante le vostre attività quotidiane mentre preparate da mangiare durante il fitness o solo per una pausa o come spero io la sera sprofondati in una comoda poltrona con un bicchiere di cognac in mano vi ricordo che the future of è in crowdfunding su patreon quindi se volete supportare questo progetto di divulgazione gratuita a meno del costo di un caffè a settimana siete benvenuti ed avete tutta la mia infinita gratitudine in attesa che esca la prossima puntata come sempre vi invito a suggerire the future of ai vostri amici ai colleghi e dagli appassionati di futuro